ciao a tutti ragazzi questo è un brevissimo video per mostrarvi questo stupendo easter egg di far cry prima potete trovare sulla mappa esattamente dove sono io adesso questa caverna seguendo il fiumiciatto lontranno troverete questa caverna che porterà questo due recenti viola una roba bellissima fantastica se volete vedere altri video sul gioco andate sul mio canale troverete della roba così fantastica ciao a tutti alla prossima